Un lavoro, quello dei medici, che si sta facendo sempre più difficile, non solo per l'elevato numero di ore lavorative, vista la carenza di personale, ma anche faticoso emotivamente per le aggressioni e denunce subite. Una situazione critica torna a denunciare il Presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Lecce. Il disagio che noi viviamo, il disagio lavorativo, il disagio, come dicevamo prima, di violenze che subiamo, il disagio anche delle denunce che subiamo continuamente. È fondamentale comprendere come il medico vive la spada di Damocle che pesa su di lui per un giudizio penale, per un giudizio civile, quindi con tutto l'aggravio economico che questo comporta, un giudizio amministrativo, un giudizio mediatico. Quello che io mi auguro è che i nostri valori fondanti, cioè quelli dell'essere sempre insieme in un senso di solidarietà con le persone, può produrre degli effetti positivi. E' proprio la considerazione delle persone che può far cambiare pagina, può far ritornare al centro della società, così come si è compreso durante la pandemia, la figura del professionista che vive per la vita, che offre le sue ore migliori per il cittadino.